Com'è che sei qui? Ma sai qui? A mia, ho capito? Ma com'è? E qua? Ma com'è che è stato? No, no. Ma allora stai qua, stai. Mi sta più in giro, questa qui. Che mi sta più in giro? Mi sta più in giro, questa qui. No, no, no. Mi prende in giro, mi prende. Stai qui dietro. Gli papà, te saluto. L'ho capito, capito, vedevo uno se l'ho capito. L'altro capito. Io manco ho capito tanto bene. Mi dicevo, oggi dobbiamo tirare giù le cose, poi dobbiamo a sta cosa, poi dobbiamo... L'hai capito, si era visto che l'hai capito? Sei stupendo, perché il padre è come il figlio. E non è che... Sei stupendo, ma no, no, capito. Tu, come ti chiami? Giuseppe. Giuseppe, tu non hai capito. Ma hai capito che stavo a TV, ma no? Tu hai capito? Stavo a TV, sì. Sono con te, stavo a me. Però tu non hai capito che ti dicevamo di stare là dietro, ma fa finta che stavi a casa. No, non ho capito questo fatto. E si è vista, papà, ho fatto un macello. Dice, no, dice... Adesso si è... Ha fatto un macello, papà. Dice, si si è. Hai visto il programma? No, vabbè, ho capito. Ha detto, si si è da qui. E si è. Dice che poi si è alzata una cosa. Ma ho fatto un macello, papà. Io poi dicevo, guardate qua, guardate qua. Uno si è messo davanti al televisore. Dice, no, guarda qui dentro. Io ho capito, boh, dico, ma... Ma certo, sei alzato sto coso, l'ho vista. Vabbè, si è capito che c'è capito niente. No, andiamo a vedere un bello senso. Grazie che ci hai provato.